Io nomino Davide Come dai? Nomino Davide perché sta facendo un gioco che non apprezzo affatto Un gioco di silenzio Resta in silenzio quando dovrebbe esporsi E invece si espone con delle cose Veramente deludenti E soprattutto non rispetta quella che è sempre stata la nostra amicizia Perché ho visto un confessionale questa sera Giocando un gioco che è pura strategia purtroppo e lo leggo E non mi è venuto a parlare di nulla Quando noi siamo sempre stati lì, sempre chiari E tu non lo sei stato e mi ha veramente ferito tutto questo Grazie, grazie del consiglio, complimenti Prego Cioè incassi senza un plissetta Ma va perché quello che dice Me lo aspettavo, vi dico la verità, me lo sentivo Perché mi conosci Lo sapevo già, no perché ti conosco perché sei più furba di quello che si pensa Sono giorni che ti osservo e fai questo Io non ti dico nulla perché mi hai chiesto qualcosa Ed ecco perché non mi guardi negli occhi Non mi stai più guardando negli occhi da un paio di giorni Perché se ti dico quello che penso davvero ti potrei ferire Perché non lo fai ogni tanto Perché anziché fare il finto amico non mi dici quello che pensi realmente È un finto amico Posso pensare che sei Perché te lo dico adesso che sei incoerente per quello che hai fatto Quello che hai fatto per me è molto deludente Perché hai detto No, no, non lo voglio dire Visto che lo vuoi Non lo voglio, non lo voglio Avrei voluto un confronto tra amici Non uno show in puntata, capisci? Non c'è comodo tra amici Quando avresti dovuto E lo stai facendo adesso fuori luogo Ha fatto una grandissima Un gran bacio Scusa Davide 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 Perché dici che Soleil è furba? Perché lo sapevo che mi avrebbe nominato Perché lo sapevo che mi avrebbe nominato Grazie a tutti